Vuoi nascondere i piccoli graffi che possono esserci sulla vernice? Applicando RS con un panno, puoi riempire lo spazio del graffio e nasconderlo, rispettando il colore originale e con una durata d'effetto molto maggiore rispetto ad una pasta o una cera. L'applicazione è facile e veloce e va fatta con un panno imbevuta di prodotto. Si passa sul graffio e poi si passa con il panno pulito per togliere il prodotto in eccesso. Questo metodo si differenzia dalle paste abrasive perché non diminuisce lo spessore della vernice protettiva. Con rinnovatore multifunzione RS inoltre puoi anche rinnovare l'intensità del colore originale della vernice sbiadita, di barre portatutto, pinze freno e molte altre parti di auto, moto e scooter. RS è un rinnovatore multifunzione italiano prevetato da Black Traction con caratteristiche uniche che non puoi trovare in nessun altro prodotto concorrente. Lo puoi acquistare sul sito Black Traction e ricevere comodamente a casa ma non lo trovi su piattaforme come Amazon. Grazie a tutti! Grazie a tutti!